Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Chi più ha, perché deve pagare di più? Scusi, chi più ha? No, devono pagare tutti in funzione di quello che hanno. Devono pagare il giusto, devono pagare tutti il giusto, non i ricchi o i meno ricchi. Nel regno delle vacanze extra lusso, Porto Cervo, non hanno alcuna intenzione di pagare di più. La tassazione sulle rendite, invocata dalla segretaria PD e Lischlein, qui viene respinta con decisione. Perché devo contribuire? Già fatto con le tasse? Io penso che le rendite siano già abbastanza tassate. Io sono tassato, alla fonte, tutta la vita sono sempre stato tassato alla fonte. Io contribuisco non solo perché ho l'alloggio qui sulla piazzetta di Porto Cervo, ma perché ho molti appartamenti a Torino e poi c'è una sberla di imughe che Dio solo lo sa. Lischlein mi fa ridere. Lischlein è troppo vaga, è troppo vaga. Quali rendite? Il governo Meloni promette il taglio delle tasse, ma costo zero, dunque qualcuno dovrebbe pagare di più. Qualsiasi governo serio dovrebbe provare tutti i modi per ridurre al minimo l'evasione fiscale e fare in modo che tutti paghino le tasse. In America tutti pagano le tasse e costano molto meno. Credo che se ci fossero i dovuti controlli ognuno pagherebbe le tasse nel modo giusto. I ricchi non si toccano? Sì, si toccano, ma è difficile toccarli. Facciamole pagare a tutti le tasse, non solo ai ricchi, come dicono questi. I ricchi non devono fare di più, i ricchi devono essere onesti perché non tutti lo sono. Allora, sì.